buongiorno a tutti io sono chiara e su questo canale vi parlo dei quadri che mi hanno particolarmente colpita e a cui sono affezionata oggi vorrei parlarvi della tempesta di giorgione sorzo di castelfranco chiamato poi giorgione nasce in veneto per l'appunto a castelfranco nel 1478 della sua vita si sa pochissimo ma certo è che muore giovane poco più che trentenne probabilmente di peste e che è richiestissimo sia per quadri a tema sacro che per ritratti e paesaggi c'è ancora oggi qualche difficoltà nell'attribuzione delle sue opere perché non le firma sono molto pochi i quadri da lui firmati ciò che sappiamo in merito alla sua vita però è che giorgione è un artista godereccio amante delle donne presente nei più importanti circoli nobiliari veneziani e un umanista convinto protetto da molte famiglie influenti è anche richiesto per il suo stile moderno che si distacca dall'umanesimo classico e che dà alla pittura veneta un'impronta diversa si suppone che abbia conosciuto leonardo personalmente e che da lui sia stato influenzato soprattutto nella rappresentazione degli sfondi e dei paesaggi è utile tener presente che a cavallo tra 400 e 500 venezia attraverso un periodo di grande fermento culturale si diffondono testi scritti c'è una mentalità neoplatonica lo abbiamo visto anche parlando della primavera di botticelli e della scuola di atene di raffaello sebbene in questi casi fossimo a firenze e roma non a venezia ma il periodo è lo stesso l'elite intellettuale si interessa alla poesia allo studio dell'antichità e in questo clima molti committenti chiedono a giorgione opere a loro piacimento dentro cui spesso inserire simboli e allegorie e qui arriviamo al nostro quadro è il 1502 circa e giorgione dipinge la tempesta questo quadro è tutt'oggi un vero mistero così come della vita di giorgione sappiamo pochissimo anche di questo quadro non siamo in grado di dare un'interpretazione univoca e forse anche per questo motivo la tela esercita sullo spettatore un grande fascino già il titolo è un'incognita infatti non si sa quale fosse il titolo vero di questo quadro gli è stato affibbiato qualche decennio dopo inoltre dagli studi con i raggi x si è visto che al posto della figura maschile era stata dipinta originariamente una figura femminile nuda poi coperta e modificata il quadro che arriva ai nostri giorni insomma è questo un paesaggio con un fulmine con composizione simmetrica diviso in due da un fiume in cui ciascun elemento è fermo calmo proprio come accade poco prima che scoppi un temporale estivo ciascun elemento è per conto suo non interagisce con gli altri l'uomo vestito con gli abiti veneziani dell'epoca guarda una donna che allatta probabilmente una gitana una zingara lei però non ricambia il suo sguardo ma guarda noi anche l'airone è solo e fermo e a confermare la staticità contribuiscono i palazzi di questa città tutti in ordine su un solo argine del fiume nonché le rovine romane sulla sinistra sulla mediana verticale per l'appunto c'è un fiume un fulmine e la luna visto così questo sembra un paesaggio semplice eppure sono state veramente innumerevoli le interpretazioni che ne sono state date nei secoli alcuni parlano di una versione contemporanea di Adamo e Deva altri del ritrovamento di Mosè salvato dalle acque altri ancora di un'allegoria del conflitto tra Venezia e Padova si intravedono infatti il simbolo della città di Padova qui in questo palazzo e il leone di Venezia in quest'altro palazzo altri ancora parlano di un'allegoria tra forza fortuna e carità insomma nessuna interpretazione però al momento soddisfa pienamente e forse ciò che è più utile fare da spettatori è ammirare il quadro in quanto tale ed eventualmente se siamo proprio ispirati dare una nostra personale interpretazione al tutto è innegabile però un forte rapporto tra uomo e natura che sia un bambino una donna un uomo tutto qui è inserito in un paesaggio è circondato da alberi acqua animali e poi ci possiamo comunque soffermare sullo stile al di là dell'interpretazione del tema e questo secondo me è un punto importante perché fino ad allora la pittura veneta per eccellenza è incarnata dal pittore Bellini non ho ancora fatto una particella su di lui ma mi sa che dovrò farla presto e Bellini ha queste forme morbide classiche molto equilibrate la composizione curata sviluppata convenzionalmente in orizzontale i temi sono per lo più sacri e ha questa pennellata molto precisa con velature sottili ripetute una sull'altra qui invece c'è un distacco da questo stile abbiamo non solo soggetto e scenari differenti ma anche la composizione e il modo di dipingere di usare il colore giorgione utilizza l'olio in modo più corposo rispetto a Bellini si ispira più allo sfumato di Leonardo lo abbiamo accennato all'inizio del video e riprende l'idea del paesaggio che si allontana verso l'orizzonte i colori sono molto carichi e si serve anche di contrasti che quasi ci fanno percepire l'umidità dell'aria il venticello che muove le fronde il grigio che ci anticipa proprio l'arrivo del temporale nulla in questo quadro è convenzionale qui tutto è lontano dai canoni e dall'iconografia del tempo è un quadro che potremmo definire di atmosfera le persone sembrano quasi lì per caso e paiono in balia della natura al di là del vero significato del quadro ciò che ci attira è il paesaggio in sé e per sé e questa sua capacità di attrarci nonostante sia impenetrabile forse è proprio il vero significato della tela giorgione muore nel 1510 e benché sia stato in attività poco più di dieci anni la sua importanza è stata fondamentale per l'evoluzione della pittura veneta tanto da influenzare pittori importanti come tiziano o sebastiano del piombo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati noi ci vediamo tra una settimana